Buona giornata da Nico Schiodetto, un mercoledì anticiclonico su gran parte del vecchio continente. La mappa delle pressioni è ben lampante, chiara, con i massimi di pressione di quest'anticiclone subotropicale tra l'Italia e i Balcani, ma si estende per centinaia di chilometri anche più ad ovest con le basse pressioni che circunnavigano da sud verso nord-nordest, verso le isole britanniche e la Scandinavia, questo possente anticiclone che nei prossimi giorni regnerà indisturbato, quindi anche sulla nostra penisola con aria molto umite direttamente dal nord-Africa. Prossima immagine, nuvolosità, condizioni di bel tempo, celi sereni o poco nuvolosi, infiltrazioni diciamo da est, nord-est e solamente all'estremo sud con qualche annuvolamento, eccolo qui, a sviluppo diurno sull'Appennino meridionale, sporadici, piovaschi. In sintesi l'immagine dell'Italia con un po' di variabilità sulle zone interne del sud e della Sicilia durante il pomeriggio, nubi a sviluppo diurno, sporadici, piovaschi non esclusi, quindi sulle zone interne, sole altrove anche al nord. E osservate le temperature sull'alto versante tirrenico in pianura padana, massime prossime ai 25-26 gradi, saranno temperature da mese di maggio. Tutti i dettagli precisi ulteriori scaricando l'app di Trevi Meteo.